I just want you Manager di un'azienda di liquori, nel secondo matrimonio reale dell'anno dopo quello di maggio fra Harry e Meghan Markle La cerimonia è stata celebrata di fronte a 850 ospiti d'onore nella stessa cappella, dove a maggio si sono sposati i principi Harry e Meghan Markle La vera notizia nell'annuncio delle nozze tra la principessa Eugenie e Jack Brooksbank è il ritorno a corte di Sarah Ferguson Bandita, zittita, questa volta la duchessa è tornata a farsi vedere grazie al matrimonio della figlia Osteggiata per anni, isolata dalla famiglia reale Contestata per scandali e scandaletti, ridicolizzata per il fisico curvi e i modi poco royal . Oggi Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea e madre di Eugenia, si è presa la sua rivincita Facciata in un abito verde speranza, si dice che chi veste di verde sia una donna sicura del proprio fascino, colore che è il simbolo di questo matrimonio, Sarah scende dall'auto con la secondogenita Beatrice e infrange subito il protocollo. Come al solito Sorridente, felice, si lancia verso i sudditi festanti per abbracciare una signora anziana, e per accarezzarne un altro, e ribadisce che lei è una del popolo, non una della famiglia reale Eugenia è la sorella minore della principessa Beatrice, aveva solo sei anni quando il padre, Andrea, e la madre detta Ferge la Rossa hanno divorziato a seguito di uno scandalo La duchessa di York è stata paparazzata con il suo amante, mentre lui le bacia un dito del piede Entrambi i genitori sono stati attenti nel cercare di tenere il più possibile Eugenia e Beatrice a riparo dalla curiosità dei tabloid, che negli anni della loro adolescenza si sono mostrati impietosi nel sottolineare la mancanza di grazia, eleganza e bellezza delle due sorelle, spesso paragonate alle sorellastre di Cenerentola, Anastasia e Genoveffa Eppure, le ragazze hanno trovato una propria strada, e anche un lavoro. Eugenia, oggi 28 anni, occupa la nona posizione nella linea di successione al trono del Regno Unito, ma è poco impegnata negli affari reali Punto dal 2015 è direttore associato della Galleria d'Arte Hauser e Virta Londra Conosce Jack Brooksbank, 32 anni, nel 2010 durante una vacanza sulla neve in Svizzera, a Derby Il ragazzo le viene presentato da amici comuni Jack Noggi è laureato, ha scelto di iniziare a lavorare come cameriere, è diventato manager del club lounge bar MyKia MyFa, Londra, e in seguito si è affermato come commerciante di vino e imprenditore nel settore food and beverage . 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 Grazie a tutti.